Presentare la sfida tra Foggia e Pescara è quasi inutile dato che è una partita che si presenta da sola. Da una parte il team abruzzese guidato da Zdenek Zeman, dall'altra la formazione pugliese che dopo aver eliminato il Crotone si candida per un posto in paradiso. Ebbe fardo il calcio. Il boemo turna allo Zaccheria un anno dopo dal suo addio con l'obiettivo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma di certo non nei confronti della piazza, bensì della dirigenza rossonera. Ovviamente dalla sponda di Capitanata a conquistare la finale eliminando il Pescara avrebbe senza dubbio un sapore particolare, così come avrà un sapore particolare per Degli Rossi sfidare il suo maestro Zdenek Zeman. Il Foggia è chiuso nel suo silenzio e quindi senza conferenza stampa di Degli Rossi è difficile ipotizzare una formazione anti-Pescara. Una cosa è certa, il dodicesimo uomo in campo sarà il pubblico. Continua inesorabilmente la vendita dei tagliandi. È già stato superato il traguardo dei 10.000 biglietti e nelle prossime ore, fino all'inizio della partita, voglia dire le 20.30, saranno sbloccati quei biglietti bloccati dalla prelazione. Si va dunque verso il sold-out. Nel settore ospiti, 500 posti a disposizione, non ci saranno gli ultra del Pescara per i difficili rapporti tra le due tifoserie. Ogunseye sta bene e torna tra i disponibili. Hanno svolto allenamento differenziato Ogere e Beretta, che potranno essere gli assi nella manica di Degli Rossi. Arbitrerà Foggia Pescara, tremolata della sezione di Monza. Gara che già entra nella storia, perché allo Zaccheria, per la prima volta, ci sarà il VAR.